Zona logistica semplificata e new deal per il Polesine. Ora si tratta di correre, fare presto per cogliere le possibilità della ZLS. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Andrea Martella, è stato fra il relatore dell'Assemblea di Confagricoltura Rovigo, organizzata nella Sala Rigolin del Censer, per fare il punto sul settore primario in Polesine e sulle opportunità che la ZLS o ZES offre anche per l'industria agroalimentare. Fra i relatori, oltre al sottosegretario Martella, c'era il Presidente di Confagricoltura Rovigo Stefano Casalini, il Vice Presidente di Confindustria Venezia Rovigo Gianmichele Gambato, l'Assessore regionale Cristiano Corazzari, il Segretario della CGL Pieralberto Colombo e il Sindaco di Occhiobello Sondra Coissi. Il sottosegretario Martella ha ricordato il grande impegno del Governo nelle scorse settimane per trovare la giusta strada normativa che avrebbe portato all'istituzione della ZLS rafforzata per Marghera e il Polesine. Un percorso fatto assieme a Confindustria, grande promotore del progetto e al territorio polesano. Ora però spetta alla Regione Veneto definire in fretta il piano strategico che dovrà essere presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'istituzione definitiva. Diamoci 30-60 giorni di tempo per definire tutti i passaggi necessari, poi faremo il punto della situazione. Nel corso dell'Assemblea ricordate i vantaggi per i 16 comuni polesani e per il resto della provincia che potrebbero arrivare grazie all'insediamento di aziende nelle aree ZES-ZLS, credito d'imposta per le imprese che si insediano o si allargano benefici fiscali, agevolazioni e snellimenti procedurali. Gambato ha anche fatto riferimento alla possibilità di ragionare in ottica di allargamento dell'area ZES per includerci non solo l'intera provincia di Rovigo, ma anche un'area più vasta che comprende buona parte del Veneto, compresa la possibilità della creazione di Iare e Porto Franco collegate al porto di Venezia per ottenere agevolazioni in termini di IVA. Un new deal per il Polesine, così è stata definita l'opportunità legata alla ZES.